Si apre a Lecce la grande arena della comunicazione, l'unione di intenti di confindustria, università, camera di commercio ed a Sorel ha permesso la realizzazione di un'importante iniziativa volta all'approfondimento della scrittura del business. Sul quadrato per darsele di santa ragione, agli angoli Gianni Lombardi e Pasquale via feria. Difficile stabilire chi possa primeggiare sul ring di oltre linea. Quando ai guantoni si sostituisce la penna, il ring diventa la rena della comunicazione. È previsto per domani l'atteso incontro con i due famosi writer pubblicitari per analizzare le tecniche della comunicazione finalizzata al consenso e scoprire assieme ai leader del settore i segreti della scrittura del marketing. La scrittura che genera business, questo è il titolo del meeting. Obiettivo degli organizzatori, sceverare le metodologie di scrittura mettendo a confronto l'approccio razionale e quello emotivo dell'espressione scritta orientata al mondo degli affari. Dalla monumentale cornice del chiostro di San Domenico, grazie alla sinergia di università, confindustria, camera di commercio e a Sorel Italia, andrà in scena Ring, la grande arena del marketing e della comunicazione. Un workshop che tra conferenze, convegni e tavole rotonde entrerà in punta di piedi nel mondo del marketing per svelarne i segreti.